La tragedia della folgore è finita. Il fragore della battaglia si è spento nella pace della morte che fa vano e inutile ogni odio. Ma questa ordinata distesa di croci nelle sabbie non più deserte sia esempio di eroismo, di sacrificio e di dovere e monito di chi visse a chi vive perché l'umanità nel segno di Cristo ritrovi il dono dell'amore. E lei fu ferito quella notte stessa? Sì, perché all'alba gli inglesi ci attaccarono e purtroppo della mia battuglia nessuno si salvò. Su l'alba, dopo lotta impari, sopraffatti, venne l'ordine di cessare il fuoco. Fu triste, doloroso rinunciare alla lotta, ma così le ultime vite umane furono risparmiate. Il nemico rese al duca e ai suoi soldati l'onore delle armi. Erano italiani e in quel momento seppero conservare la loro fiorezza. Sfilarono salutati dal generale May. Schierate lungo il percorso dei nostri soldati, le truppe inglesi presentarono le armi e con i comandanti resero anch'essa il loro cavalleresco saluto al valore dell'avversario. Sull'alba rimase un nome su una targa, un nome che nessuno poteva far prigioniere e cancellare da quei luoghi. Tosetti. Voi non siete un vinto, ma un vittorioso, disse il generale Platt al duca. Poi il duca passò in rivista alle truppe inglesi. Era un grande cuore e aveva un solo ideale, l'Italia. Giovanni Aldea, miei cari figlioli, molti anni fa è stato un mio scolaro, come voi oggi. Era un bambino vivace, commetteva qualche mancanza, come voi. Ma poi da grande è vissuto come un buon cittadino ed è morto come un buon soldato. Io ero molto amico di suo padre, combattemmo insieme nella prima guerra mondiale. Cadde sul montello, morì come si moriva allora gridando, viva Trento e Trieste. Non vedo l'ora di spedire una cartolina da Malta, mio padre mi ha sempre scritto dal fronte. Chissà se ci sarà la guerra. Tutto è nelle mani di Dio. Forse nelle mani di Dio. Il guaio è che purtroppo è nelle mani degli uomini. E' viva e viva il regimento. E' viva e viva lo cavo degli altri. E la guerra venne. E dopo la reclute cominciarono a partire anche i primi richiamati. Partivano allegri perché tanto non c'era niente da fare ed era inutile lasciare a quelli che restavano il ricordo di una tristezza di più. Ciao, bionda! Non dimenticate mai, figli miei, i soldati che non sono tornati, che non torneranno mai più. Sono caduti nell'adempimento di un supremo dovere. Non dimenticate mai. Non se ne vede la ragione Gli uomini non capiscono Morire per vincere, sì Ma morire per perdere, Nardi Il capitano Bruschi mi ha insegnato una cosa Che in guerra non si può discutere, si deve solo obbedire Noi siamo qui perché così ci hanno detto di fare e basta Vieni 20 gradi a dritta 20 gradi a dritta Colpito da fuoco Stanno ammazzando altra gente Eh lo so, è terribile Ma è la regola del gioco Bisogna uccidere Come se l'umanità avesse bisogno di questo bagno di sangue Lei stesso che ora protesta Al loro posto cosa avrebbe fatto? A che c'entra? Io sono inglese A che me ne frega se sei inglese Pensa all'anima tua e non rompermi Quando mio figlio sarà più grande Digli che ero un buon marinaio e chiamavo la patria Digli che non gli sono più accanto perché ho voluto aiutare lui e tanti altri bambini E che gli auguro di non vedere più l'orrore degli uomini che uccidono altri uomini Digli che gli ho voluto tanto bene In quel mare di fiamme scomparvero molte giovani vite che la guerra pretese Spietata La loro morte gloriosa ed eroica Può insegnare agli uomini di oggi il valore del coraggio e dell'umana esistenza In un mondo senza guerre e senza sangue Capitano Franchi Comandi Cosa vogliono? In nome dei loro figli morti in guerra Supplicano di non cacciarle fuori dalle loro case Bene va bene le faccia alzare Pagni mitis Pagni mitis Ma state tranquille I vostri diritti saranno rispettati Auguri tenente Donald A lei Di ai suoi tene Altrettanto a lei e alla sua famiglia La mia famiglia eccola qui La mia casa è questa Hello How are you old boy? Devo ringraziarla sinceramente per tutto quello che ha fatto per i miei uomini e per me Gliene saremo riconoscenti per tutta la vita tenente Ma intanto io personalmente Vorrei poterla ricambiare in qualche modo C'è qualcosa che potrò fare per lei Quando sarò al CAI Sì Se per caso dovesse incontrare quella ragazza Nancy Carson Le dica che No Tanto è inutile Attenzione 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 A few days ago in the desert I met an Italian officer Sergio Marchi Sergio Nancy Oggi sono il capo della missione alleato d'armistizio in Italia Ma un tempo ero il comandante della corazzata che questo ufficiale ha affondato E tale è la mia ammirazione per l'eroica impresa Da lui compiuta signora medaglio Che sono a chiederle di cedermi l'onore di appuntargli personalmente la medaglia sul petto Vi domando se vi rendete conto della vostra posizione di civile sorpresa con le armi in pugno Rispondete Ma le raffiche non hanno colpito nessuno dei miei uomini Poi quando ho raggiunto la sommità del campanile la donna ha cessato il fuoco e non ha opposto resistenza Sì Perché avevo finito munizioni Non c'erano dubbi Conosceva bene il mestiere Ma si dava un grande affare nel curioso sforzo di dimostrare a me la sua abilità professionale E a se stessa che non sentiva alcun femminile disagio per la nostra non comune situazione Il nodo scorsoio a sinistra Lo so C'è anche una donna E' ferita? E' arruolata da molto tempo? Da quando il mio fidanzato è morto a Tobruk Ucciso dagli italiani Ma no, grazie, ci mancherebbe Sono più pratico Il console inglese di Santa Maria l'aiuterà a rimpatriare E non sarò più una donna tra i naufraghi Un soldato vorrà dire O non basta una giacca con i bottoni di metallo a fare un soldato Io... Io sono... Una donna E non ci mani Alcaldia Si In Non ci mancherebbe E Angele solle, Angele solle, Angele solle. Scusi, signor Ferri. Mi dica. Miser, non l'ha più vista? Si, si sono visti altre due volte durante il guerra. E dopo il guerra mio servizio e informazione è finito. Così anche io vorrei sapere cosa è successo con Miser. Venga, venga. Vengo, venga. Si buono . Era un amigo, 형o, ilvio a Letori di medidas che ho avuto edil puesto a incerno innninfluenza. Ins rotation. Grazie a tutti.